Le leggende rosa-nero scendono ancora una volta in campo, questa volta però non per una partita di pallone, ma per un'iniziativa solidale a sostegno della città di Palermo. La lista dei partecipanti è lunga, ci sono nomi e cognomi di 27 ex calciatori del club di Viale del Fante, più un ex allenatore. I loro nomi sono tutti lì, nero su bianco, ma pria di far sapere chi sono, vogliono diffondere il più possibile la campagna di sensibilizzazione che hanno lanciato con il supporto di Fondazione Sicilia, che ha già stanziato 50.000 euro a sostegno dell'iniziativa e Coppa Alleanza 3.0. Tutti quanti, dicono in coro, abbiamo deciso di creare e partecipare a una raccolta fondi, volta a supportare le fasce più deboli della nostra amata Palermo. Perché il Covid-19 non è solo un'emergenza sanitaria e anche, lo sarà sempre di più, un'emergenza sociale. Non possiamo tollerare che sia negato a famiglie e bambini il diritto fondamentale alla vita, l'accessibilità al cibo per tutti. Con il coordinamento del Comune di Palermo, i buoni pasto saranno distribuiti alle famiglie bisognose individuate da Caritas, Banco Alimentare e Banco delle Opere di Carità. Un'iniziativa solidale firmata dalle Rosa Nero Legend, schierati per difendere i colori di un'intera città.